Buona domenica ragazzi, dove sono? Qui è la Sanitiva alla Sapienza, capolavoro a Dio, Orromini, guardate che meraviglia! Un capolavoro del barocco, Santivo alla Sapienza, guardate che meraviglia, guardate che gioia, guardate, Borromini, fantastic! Un capolavoro unico a Roma, Santivo alla Sapienza, Borromini, guardate che meraviglia! Una meraviglia, Santivo alla Sapienza! La storia del barocco santo alla Università della Sapienza costruita dal Papa nel 1400. La storia del barocco santo alla Università della Sapienza costruita dal Piazza Navonia da Palazzo Braschi. Guardate che meraviglia, Artemisia Giunteleschi. Grazie. 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 Grazie.